Abbiamo festeggiato quest'anno i 40 anni delle Stratos, unica passerella al mondo dove abbiamo visto un parterre de rois veramente ci viene in mente chi oggi da maledetto toscano non può che ricordare l'ingegner Cobbato che fu l'ideatore della lancia Stratos con Bertone. Emanuele Zanone, Guido, eh si, Guido ci siamo. Emanuele Zanone, aprire questo rally con una vittoria leggendaria non ha ancora responsabilità. Emanuele Zanone è pochissimo, adesso vi faccio rispondere il microfono, è un onore ed anche un appartamento. Allora, questa è la lancia Stratos di Emanuele Zanone e di Massimo Pastorello che fra breve prenderà il via per la prima tappa del Rally Legend. Emanuele Zanone con Massimo Pastorello e naviga di Emanuele. Lancia Stratos 19.30 come data bella di marcia. Emanuele fa abbiamo avuto Simo Lampinen che con questa macchina regalò emozioni con i colori all'Italia. E senti come gira. Ed è la 124 Spyder di Gilberto e Mattia Bertolini. Una vettura estremamente particolare questa, macchina del 60.00. Esattamente, sì, macchina dei primi anni 70 che ha fatto il Monte Carlo, ha fatto poi la Sanremo Sestria, l'arco speciale, comunque sembra un piccolo gioiellino. Macchina rarissima, se ne trovano sempre meno. Esattamente, questo è il grado del 1.600, non è l'Avart. Adesso ti lascio al tuo rally. È bello davvero questo oggetto. Tra l'altro Gilberto è stato anche al Tuscan. Altra manifestazione organizzata con la regia di Vito Piarulli. della Montalcino Motorsport con Mattia Bertolini, il trofeo 1 nel 1988. E la prima delta è la delta totif dell'88 di Artemio Ballestini e di Andrea Puzza. Si parte. C'è già gente che ha le gomme da te. Prima è da sling. Ecco, e quindi avanti, verso l'avventù. Dobbiamo lavorare anche i meccanici. Giustamente. Allora, a Temio Ballestini è stato, oltre che tuttora, come preparatore, come pilota, ha partecipato al Monte Carlo, al Mille Laghe, al Porto Carlo, al Sanremo. E Andrea, che è la navigatrice, è una che ha un record in assoluto. Ha fatto una navigazione da sola, con una barca, in giro per il mondo. È stata via un sacco di tempo e si è giudicata anche un premio speciale. E' la nostra Fogar, diciamo così, in solitaria. In solitario. E adesso ne abbiamo invece una delta integrale, che porta i colori di uno sponsor storico, è quella di Andrea Fedolfi. Allora, Delta Campari, una macchina che ha una grandissima storia, Andrea. Io ricordo che... Andrea, ed è già detto tutto. Andrea Fedolfi e Massimo Bartalucci sono il team Montalcino Motorsport, sono davvero quelli che organizzano e che hanno il gusto di coltivare la storia, di mantenere. Lui è uno dei collezionisti più noti nel mondo, con le Lancia Delta. E Andrea, insieme a Niccolò, che arriva subito dopo, che è il figlio, sono le anime con Massimo, Alessandro Mori e tutti gli altri, della Montalcino Motorsport, che organizza appunto con Vito Piarulli il Toscan Rewind. Andrea Fedolfi. E adesso partiamo di famiglia, Niccolò Fedolfi. E qui abbiamo un deltone che fa veramente impressione. Sta un po' tutti i fondi. Grazie Gramenzi, insieme a Recinelli. Doveva arrivare alle 36, lui si è truffolato, doveva esserci Niccolò Fedolfi. Comunque Marco Gramenzi è campione con la F40, la S4, X Allen, la Delta X Tabaton, l'Alfa 155 X Tarquini, la Lotus, la Viper. Cioè è uno di quelli che ha nel sangue i motori navigato da Pietro Recinelli con questa Delta S4. Davvero un protagonista assoluto di mille battaglie. Marco Gramenzi, Legend Star numero 26. E chiaramente sta per maggior tempo sul palco proprio perché mancando un concorrente lui non deve pagare delle penalità. Perché ricordiamo che ci sono stati dei navigatori come il sottoscritto che hanno subito pagato dei minuti sulla linea di partenza. Eh sì, 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 sì. Marco Gramenzi, mentre c'è Sauro Farnocchia qua che sta prendendo la regolare, il suo cronometro, la sua sveglia, l'orogio a cucuccia. Anche perché il pilota di Farnocchia ha bisogno di Farnocchia, noi lo conosciamo molto bene. Eh, Marricone Falleri, Marricone Falleri. E Sauro Farnocchia che ha vinto veramente con Andrea Aghini una delle gare più belle al mondo, il rally di Sanremo, portando in alto i colori italiani. e quella notte noi c'eravamo al trionfo Lancia con Superago e Sauro Farnocchia. Un maledetto toscano, anzi due maledetti toscani. E quando arriva Marrico saranno tre maledetti toscani. Erano dei personaggi, intanto Gramenzi. Sono gli ultimi scappoli di attesa per Gramenzi. Countdown partito da parte dei commissari sportivi. Tutti ai posti di combattimento. E il gol è partito per il suo Rally Legend. E siamo a Robert Whitehouse. Equipaggio. Sembra di vedere la partenza di un rally mondiale di qualche anno fa. Robert Sorridente Whitehouse. Questa avventura è stata anche al festival di Goodwood. Porta proprio gli stemmi del festival più importante per quanto riguarda le auto d'epoca. e siamo con la prima Lancia Stratos, quella di Piero Gobi, che è un grandissimo interprete, un tecnico che adesso si diverte anche a guidare questa splendida avventura. Questa a chi apparteneva, Piero? Apparteneva a un signore di Milano che faceva pista e a rally. Poi l'ho avuto io, lo getto un pochino e adesso mi diverto anch'io. Adesso non parlare con me, perché ti hanno già dato il countdown. Ti chiudo. Poi, Piero Peppolini, allora chi era questa leggenda? Giuseppe? Questa è la mia gira del tempo, ragazzi. Questa è la mia gira del tempo, Questa è la mia gira del tempo, che è la mia gira del tempo. Ecco, avete sentito la storia che si porta presso tutti questi lettori? Questa è particolarmente bella, credo, ma riempito di un'immaginario, credo. Guarda, sono emozioni, non mi piace a dire sulle emozioni. e mi piace per solo i piloti, i campionati, i navigatori. Impregioniamolo. E' un'unica oggi per il momento di ricordare un'altra lanciarelle di quella di Giognus. Giognus, che tra le altre cose gli dice, Presidente della FIAT e Presidente delle Autostoriche FIA, FIA è offizionalmente riempito di riempito di riempito di Mr. Yu. Esattamente, che un'avvento meraviglioso, un'avvento meraviglioso, di riempito di riempito di riempito di riempito di riempito. E' un'avvento meraviglioso, un'avvento meraviglioso, che ha avuto un'avvento di riempito di riempito di riempito di riempito di riempito di riempito. Insomma, ci sono... E' un'avvento meraviglioso, e' un'avvento meraviglioso, una pizzi bici, un'avvento moderata, a farlo aiutare un grandissimo pilota. Di riempito di riempito di riempito di riempito di riempito di riempito, con questa avventura, si riempita e a partecipare ancora ai relli, il dottore общем è in Speak19X, tantissimo! Ma che è un retro dell'enoberto invece funziona il provedore. duel.... conversato, hält buddus bici, 10 secondi Allora, questa è la mia stanza di libertà, che sempre più grande, sempre più piccina Ci sono state in casa 30 secondi Allora, questa è la mia stanza Ok, grazie, grazie Allora, ti amo, e domani, non c'è tutto il tuo messi, non c'è tutto il tuo messi, non c'è tutto il tuo messo 10 10 Penso che, seguendo il forno, e anche con la gente, chiede la presenza di questi due E' una situazione atmosferica abbastanza strana Per i luoghi, ascolto, e io portarlo Ah, benissimo, quindi... Non dubbio, è pascià, pascià Benissimo, grazie Grazie a Guerra e a Cappella, con la loro BMW 318 IS 10 secondi 5, 4, 3, 2, 1 E la prossima, invece, è una macchina abbastanza rara, perchè, a dire, comunque, il filo e il 3, questo è il 45, quella di quanto il filo e il filo e il filo e il 3, quindi l'ultimissimo modello Per il filo e il filo e il e quindi il partenente, è anche 55, siamo venuta per i tuoi Cabinet, che quindi deve essere finito e forgotten e poi andremo già su a destra Aquadro S 10 secondi Questa è l'avventura come diceva Kingworth che era appartenuta qua nel nord e fosse il pilota britannico degli anni 60 e 70 più vincente e che dominava tutti i rally inglesi I chiesi ogni tanto qua il banco è un antiro e lo scordi in grado e pietone, in grado e pietone e mondiale e la confezza quando è il 27 e poi la peggio con 151 tra 16 e abbiamo anche la tronuntiere del 6 con l'amore conseguente per ecco portata in casa dal nostro amigo Steve Rothkin insieme a D.Von Nathan, una dedola del ciclo del ciclo di safari. This is the Experetum car. This is the Experetum car. E' stata la vettura Experetum e Simo Lampine. Una TR7 Nedo. E' stata una vettura forse non troppo vincente in Europa, ma in Inghilterra, invece, dominante dell'anno stato dell'anno della categoria. Però anche quando vennero all'erba non facevano noccioline. Portogallo, Aguopoli, Montecano, Argentina, per questo driver. Una navigatrice con la forma. E' una navigatrice. E' molto importante è quello che aumenta. Stanno qua dentro, altro pilota britannico James Edis e Morgan Thompson sulla loro Corpocus, che è l'experetumacchina di Carlos Sainz. Prima di partire di San Marino. E' un'altra partecipazione di San Marino. Questa è la Sainz. 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 e abbiamo un'altra URC perché andiamo a togliere con l'ora di Lui Kronzig un grande, un grande, un grande e un filipo con questa Coyota-Colona che si è l'importante campi di noi avete sentito, avete visto il good stop avete visto il radio villanaria la Coyota-Colona è stata l'ultima abertura che la Coyota prima del ritiro dalle competizioni alla conclusione di quell'epoca che è stata l'epoca che poi ha preceduto quella attuale 10 secondi 10 secondi il mio giro è stato il filipo canadese, è una patrenza anche per lui go 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 Dall'Austria, Christoph d'Austria, la prima delle auto in campo, quella del Vipen, dove c'erano il Vopat Manonè, detto, il Vopat Manonè, il Vipen, 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 la vipen, la vipen, la vipen che ha fomparato, come è diversa anche per lui, questa è una macchina particolare, difficile, è quella che ammazzo i melli insomma, le 4 volte potresti è una accelerazione diversa e qui c'è una del... pilotone, pilotone guarda il most difficult time di try ok, il giorno lo sa adesso, si decisamente che la difficult time è incredibile però penso di divertirvi e di più ma guarda lui si diverte ma anche noi a guardarlo Zimo un capito di due giorni il pilotone è un esempio di una tendenza forse un'avventura sia oltre estrema per il prevedere è spettacolato poi Michel è un giocatore davvero è un... un'altra... 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 con un'altra... un'altra... Ecco, e vise il re di Montecarlo, è una macchina perfetta, si sono ancora descrite nel luogo di partenza, perché l'epoca Montecarlo partiva non da morte. Il 31, qui è la porta, ex Bernardo Nitsch, Yolanda, allora, che quanto fa essere sull'ex Bernardo Nitsch caro? Oh, sono grandi, grandi emozioni, belle, belle macchine, qui è straverso Alchibelli. Adesso viaggio, perché dovete partire l'affaio, guardi anche un caro per aiutare, l'ora per ripartire, l'ora per ripartire, l'ora per ripartire. Questa è l'LSD, è l'85, è l'avventura di Bernardo Nitsch e di Jundje, è un'ex Bernardo Nitsch. E quindi, il pubblico apprezzano solo le macchine, ma anche la tasse e lo skill di questa gente, gentlemen driver, che ha un'esperienza, gentlemen driver importanti, con il curriculum fondamentale, che farete voi in Italia, di molti migliori, comunque questo è un disco. E quindi, anche se non è un disco, che si trova l'ex Bernardo Nitsch. E' l'amore che vive, è un disco che si trova l'ex Bernardo Nitsch. E' un disco, che si trova l'ex Bernardo Nitsch, è un disco che si trova l'ex Bernardo Nitsch. tra l'altro viene spodificata da un po' fissario Arevino, da Franco Gerenzi che poi dicevano ma non servivano sull'asfalto si manda in un altro modo allora la tua mancia a loro Paolo alla prossima inscrizione la siedle la siedle